Adesso arriva il Natale e ci sono luci dappertutto, spese in cose molte volte anche inutili, e non ci rendiamo conto che Gesù bambino non nasce di nuovo, non nasce ogni anno. E' nato una sola volta, duemila anni fa. Quello che deve avvenire è la fede nostra che si deve fortificare. E quello che è stato privilegio di Maria deve diventare, nella fede e attraverso la Chiesa e i Sacramenti, nostro privilegio, far nascere Gesù in noi, farlo crescere, farlo diventare maturo in tutto quello che succede nella vita. Per Maria, anche quel momento della nascita, poteva essere un momento di dubbio nella fede. Io, madre del figlio di Dio Altissimo, e dove sta Dio? Sta nascendo abbandonato da tutti. Perché poi chi arriva a Betlemme è solo un pugno di pastori e alcuni personaggi misteriosi che, seguendo i loro studi, la stella che hanno visto, arrivano a Betlemme. E proprio perché ricercano Dio nella vita, vedono in quel segno, in quel bambino, il Dio fatto uomo, il Re, colui che darà la vita per l'umanità intera.